Lui sostiene che la sera del primo maggio non ha chiamato Guerrina perché il suo telefono era privo di credito e io ho fatto notare che dai tabulati telefonici ha chiamato il numero telefonico fisso della sua abitazione e ha parlato per 20 secondi con la madre con ciò dimostrando di avere un credito nel suo telefono. Di fronte a questa osservazione non ha saputo rispondere e ha accusato un malore. Stava rispondendo ad alcune domande relative al primo maggio quando ha accusato un malore. Mirko Alessandrini, il marito di Guerrina Piscaia dopo una sospensione della sua testimonianza è tornato sul banco dei testimoni per riprendere il suo racconto da dove si era interrotto la mattina sempre incalzato dagli avvocati del frate congolese accusato dell'omicidio di Guerrina Piscaia nell'occultamento della distruzione del suo cadavere. Sono state molte le contraddizioni tra quanto riportato sui verbali redatti dai carabinieri nel corso delle varie deposizioni e quanto invece dichiarato in aula da Mirko Alessandrini. Il marito è infatti più volte contestato quanto scritto nei verbali. Nel corso del controinterrogatorio sono state toccate nuovamente alcune questioni già affrontate nelle scorse udienze ma alle quali si aggiungono nuovi dettagli come ad esempio l'episodio rivelato solamente dopo la scomparsa di Guerrina dal figlio Lorenzo al padre. Il ragazzo avrebbe infatti parlato di uno scambio di bacetti in canonica tra la madre, padre e Graziano confidenze fatte secondo quanto riportato da Mirko anche alla zia e alla cugina. E poi ancora l'affer coniglio. Fu infatti Guerrina poche ore prima di scomparire nel nulla di inviare un sms al frate con su scritto vengo in canonica ti cucino il coniglio e poi facciamo l'amore a cui il religioso avrebbe risposto la canonica è aperta. Mirko in aula ha ribadito ancora una volta che era stato il congolese il 30 aprile chiedere alla donna di andare a cucinare in canonica per poi dirle il giorno successivo che non c'era più bisogno. In realtà è Graziano che il 30 aveva già programmato di chiamare Guerrina in canonica e questo è il punto. Poi dopo non l'ha chiamata, o meglio, a Mirko ha detto di non venire, non so per quale motivo ma probabilmente in canonica lei c'è andata e per me che non ha fatto ritorno. Il prossimo capitolo sarà scritto il 17 giugno, giorno nel quale potrebbe essere sentita la donna che avrebbe messo in guardia dal frate la parrocchiana di Perugia ascoltata nell'ultima udienza parlandole di traffici loschi e di una passione poco ortodossa del religioso per le donne. Sarà chiamato in aula poi, su richiesta delle parti civili, Monsignor Riccardo Fontana ma la testimonianza del vescovo potrebbe slittare a causa di un impegno pastorale. Sarà infine la volta dei consulenti di parte civile per la famiglia Alessandrini saranno ascoltati l'informatico Paolo Reale e la criminologa Roberta Abruzzone.